Quante volte a volte indugiamo davanti alla chiamata del Signore? Non si è cristiani perché partecipiamo, frequentiamo la Chiesa. Noi siamo cristiani sempre, 24 ore su 24. E lo siamo sempre, in ogni posto, in ogni luogo dove stiamo. Vogliamo essere discepoli, lì nel posto dove il Signore ci ha messi. E a volte ci troviamo in un contesto difficile alla quale forse diciamo spesso e volentieri, ma capitano tutti a me. Quanto è difficile, quanto è arduo il contesto. A volte pensiamo che i nemici li abbiamo vicino a noi, sono gli uomini, le donne. A volte abbiamo dei sentimenti o risentimenti che ci portano a non fare il bene, a non agire bene. A volte piuttosto che pregare per certe situazioni. Ci schieriamo dalla parte degli uomini giusti che possono giudicare tutti e tutto, senza dimenticare che Dio è un Dio che fa grazie a tutti e che può arrivare a chiunque. Il Signore conosce i cuori. Il Signore non bada alle capacità, a quanto uno si mette in mostra, in vista. guardate, fratelli e sorelle, che il Signore sa quello che fa. Stiamo attenti a contestare Dio. Vuoi metterti a disposizione di Dio? Vuoi essere un cristiano, un credente, un discepolo devoto? Sappi questo, Dio guarda al cuore. Gli uomini possono scartarci, gli uomini potranno dirci di no, gli uomini potranno metterci da parte, ma Dio non lo farà mai. Dio conosce ogni cosa e ci chiama al momento opportuno, al momento giusto.